Cambiamo argomento, parliamo dei dolori al piede. Compaiono all'improvviso, sono spesso intollerabili. Ecco, cerchiamo di capire da cosa dipendono e cos'è possibile fare. Sono il nostro mezzo di locomozione a costo zero, eppure dei piedi troppo spesso ci accorgiamo solo quando fanno male. Si parla spesso di mal di piedi, ma non ci si rende conto che i piedi sono una struttura complessa, composta di tantissime parti, una concatenata con l'altra, il cui risultato finale può dare dei dolori in vari distretti del piede. In particolare oggi ci occupiamo dei dolori della parte plantare del piede, del calcagno e della zona sottostante. Si chiama sistema Achilleo-Plantare ed è la base della dinamica del cammino, un insieme di ossa, muscoli e nervi che ha nel calcagno il suo baricentro e che se mal funziona può dare origine a dolori diversi. Ho cominciato a sentire un dolore, un bruciore molto forte sotto il piede. Il problema di Tiziana si è rivelato una fastidiosa fascite plantare. La fascite plantare è una patologia che colpisce questa zona del piede dove esiste questa struttura chiamata appunto fascia plantare che dal calcagno arriva alla parte anteriore. Quando fa male nella zona più distante c'è un dolore in questa specifica zona, quando fa male alla sua inserzione più vicina al calcagno fa male in questo punto qua. Una curata visita clinica può già fornire al podologo molte informazioni da approfondire poi con l'aiuto di test più sofisticati. Cammini pure tranquillamente, avanti e indietro. Con questo strumento speciale stiamo misurando la sincronia del movimento per vedere se la gamba destra o la gamba sinistra effettuano lo stesso tipo di velocità di esecuzione e lo stesso spazio di lunghezza o di apertura del passo. Queste informazioni ci aiutano, se messe in relazione con l'esame clinico effettuato precedentemente, ad avere una diagnosi più precisa. Accertato uno squilibrio funzionale, l'assetto del piede può essere modificato per mezzo di plantari, ma attenzione, come un vestito non è detto che quel modello vada bene a tutti. Questa è la speciale terapia ortesica creata apposta per la signora Tiziana, in cui dopo lo studio accurato della meccanica del suo passo e della sua stazione e della sua postura, abbiamo ideato un plantare differente tra destra e sinistra con decine di materiali differenti dal retropiede all'avampiede che permettessero di scaricare le zone di lesione, ma soprattutto di cambiare gli assi di movimento del piede per ottenere un funzionamento indolore armonico e funzionale. Particolare attenzione va poi riservata alla scelta della scarpa. Non azzeccarla significa andare incontro a problemi muscolari e tendinei. Ci vuole una cazzatura che sia stabile, con un tacco medio-basso, dai 2 ai 3-4 cm al massimo per l'uomo e per la donna, una suola morbida e flessibile a livello dei metatarsi e soprattutto una scarpa che non stringa il piede come in una morsa, ma che gli lasci spazio alle dita e ai muscoli di funzionare correttamente. Questo aiuterà il nostro buon cammino, ma soprattutto la nostra salute generale.